27 ottobre ore 17.35 Inghilterra questo è il cielo inglese direi che è tutto regolare mi sembra tutto normale tutto naturale sempre sempre successo non mi farei troppe domande mi sembra che questo sia tutto assolutamente ricollegabile alle famose scie di condensa questo non sono scie che restano per ore nel cielo no queste sono è vapore acqueo il famoso vapore acqueo che che va via in pochi minuti cioè io lo so fate voi se secondo voi queste cose sono normali guardate in alto anche voi ogni tanto alzate quella cazzo di testa pecore ciao